ciao in questo video parlo del piombo un elemento molto usato ma anche molto tossico il piombo è l'elemento chimico di numero atomico 82 il suo simbolo è pb è un metallo tenero denso duttile e malleabile di colore bianco azzurrognolo appena tagliato esposto all'aria si colora di grigio scuro il piombo viene usato nell'edilizia nella produzione di batterie per autotrazione nei proiettili e allo stato liquido viene utilizzato anche come refrigerante nei reattori nucleari il piombo è anche molto utilizzato nelle leghe metalliche sia il piombo sia i suoi composti sono nocivi il piombo nativo è presente naturalmente nell'ambiente anche se piuttosto raro tuttavia la maggior parte del piombo che si trova in natura è prodotto da attività umane in seguito all'aggiunta del piombo nella benzina è stato generato un ciclo artificiale del piombo nel motore delle automobili per esempio veniva bruciato il piombo che si combinava con altri elementi formando cloruri bromuri e ossidi il nostro organismo può entrare in contatto con il piombo tramite la pelle la via orale e le vie respiratorie questo metallo si va a depositare sia a livello osseo che sanguigno a livello ematico può provocare una forma di anemia perché compromette la formazione di emoglobina viene eliminato dal nostro organismo tramite le urine e le feci a un accesso di piombo può portare ad un'intossicazione cronica perché è molto facile entrare in contatto con quantità di piombo talmente grandi da provocare tossicità acuta in questo caso il sistema più colpito con un nervoso centrale ma vengono coinvolti anche gli apparati renali gas intestinali e riproduttivi la causa più comune che porta al rilascio di piombo nell'acqua potabile e la corrosione dovuta alla reazione fra l'acqua e di tubi con le saldature al piombo l'ossigeno disciolto il ph basso o il tenore ridotto di metallo in acqua influenzano il fenomeno inoltre la pratica di messa a terra di un sistema elettrico attraverso i tubi dell'acqua può accelerare la corrosione con l'aumentare dell'età della costruzione calano le concentrazioni di piombo nell'acqua questo perché internamente ai tubi e nelle zone delle saldature si depositano prodotti incrostanti derivanti da ioni disciolti nelle acque che permettono di separare il metallo dal liquido inibendo così le reazioni corrosive dal 26 dicembre del 2013 è scattato in italia il nuovo limite per il piombo ammesso nell'acqua potabile da 25 a 10 microgrammi per litro meno della metà prima ammessa ribadisco il concetto già espresso in un altro mio video non comperate rubinetteria cinese o giù di lì comperate rubinetterie italiane certificate che non contengono piombo e non rilasciano nessun metallo pesante tossico per eliminare il piombo dall'acqua se parliamo a livello di municipalità o nell'industria ci sono delle resine specifiche invece per un uso casalingo c'è l'osmosi inversa da come si può vedere in tabella il processo osmodico è in grado di eliminare dal 93 al 98 per cento del piombo presente nell'acqua una bella sicurezza per la propria salute bene anche col piombo è tutto si fa per dire se hai domande in merito o se hai deciso di acquistare un impianto di purificazione per l'acqua di casa scrivimi o telefonami ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto al prossimo video ciao ciao